Ciao, oggi ti portiamo a vedere la città dei santi Francesco Echiar a Sisi. Assisi ha una storia millenaria con importanti testimonianze romani, medievali e nascimentali. Situata nella parte centro-orientale dell'Umbria, Assisi è adagiata sulle pendici del monte Subasio e domina la pianura tolcata dai fiumi Topino e Chiascio, affolenti del Tevere. La città che ha dato i Natali a San Francesco e a Santa Chiara si è imposta all'attenzione mondiale come centro universale del messaggio francescano di pace e fratellanza, costruita con la tipica pietra rosata del Subasio. Assisi vive e fa vivere a tutti i visitatori l'atmosfera di profonda spiritualità dei luoghi che la storia e la fede dei suoi santi rendono unici nel mondo. Una curiosità, il colle dove sorge la Basilica di San Francesco si chiamava Colle dell'Inferno. Un tempo si impiccavano i condannati. 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 Grazie a tutti.